preghiera ai santi apostoli pietro e paolo o santi apostoli che rinunciate a tutte le cose del mondo per seguire al primo invito il grande maestro di tutti gli uomini cristo gesù otteneteci vi preghiamo che anche noi viviamo con il cuore sempre staccato da tutte le cose terrene e sempre pronti a seguire le divine ispirazioni gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen o santi apostoli che istruiti da gesù cristo impiegaste tutta la vita nell'annunciare ai diversi popoli il suo divino vangelo otteneteci vi preghiamo di essere sempre fedeli osservanti di quella religione santissima che voi fondaste con tanti stenti e a vostra imitazione aiutateci a dilatarla difenderla e glorificarla con le parole con le opere e con tutte quelle nostre forze gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen o santi apostoli che dopo aver osservato e incessantemente predicato il vangelo ne confermaste tutte le verità sostenendo in tre più prodelico esecuzione più tormentosi martiri in sua difesa otteneteci vi preghiamo la grazia di essere sempre disposti come voi a preferire piuttosto la morte che tradire in qualsiasi maniera la causa della fede gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amin